Tangoita nel Benin l'ex Daomei uno degli stati africani che sta percorrendo la difficile strada dello sviluppo nella democrazia Dalle 1990 il Benin costituisce un modello ed un laboratorio politico e sociale in cui le esperienze dell'impresa individuale e di gruppo trovano spazio e sostegno da parte delle autorità locali e delle organizzazioni internazionali e delle autorità Grazie a tutti.